Non era l'affa, ma era uno forte. Sei stata brava. Meglio che in addestramento. Eravamo insieme, ma poi... Hai gravi danni alla struttura corporea. Dobbiamo trovare il campo base. Ferma, Eva. Stai bene? La mia struttura corporea. Prendi questo. Ti curerai. Grazie. Ecco ne ha. Grazie a tutti. Hai capito? Ive, sei pronto? Ive, sei pronto? Non era l'affa, ma era uno forte Sei stata brava, meglio che in addestramento Non era l'affa, non era l'affa Non era l'affa, non era l'affa È pericoloso Hai capito?